Sì, dobbiamo capire cosa succede quando siamo in vantaggio di due gol. Penso che non capiti spesso, perciò è inspiegabile. Dobbiamo riuscire a gestire meglio la palla e sapendo di essere in vantaggio di due gol è con la consapevolezza che possiamo gestire tranquillamente la partita. Invece, inconscientemente, ci abbassiamo e subiamo la partita. Poi risubbiamo il gol e ci risvegliamo. C'è qualcosa da sistemare e ci lavoreremo già da domani sicuramente. Grazie a tutti.